Oggi vi parliamo di una vettura dall'eleganza unica, l'Audi A6. Questa A6 berlina, disponibile in pronta consegna alla Lorenzi Auto Hub, ha una doppia anima. Esteriormente ha il pacchetto S-Line che gli conferisce una certa sportività, grazie ai paraurti dedicati, alle minigonne e ai cerchi in lega da 19 pollici. L'equipaggiamento esterno è completato dai fari all'oxeno con luce diurna a LED e dal tettuccio apribile elettronicamente. All'interno troviamo quella che è la seconda anima di questa A6 berlina. Abbiamo un interno più classico ed elegante, con questi bellissimi sedili in pelle beige che si sposano perfettamente con la vernice nero Mythos metallizzata. Il volante in pelle a tre razze, multifunzione, con le palette dietro al volante per il cambio marcia. E le rifiniture in legno che danno quel tocco di alta classe a questa vettura. In una berlina dirigenziale come questa, la parte più importante sono i sedili posteriori. Non a caso questa è una delle auto preferite nei mercati dove si predilige la guida con autista. Comodissime le retine dietro agli schienali anteriori e qui nel console centrale troviamo i comandi del climatizzatore automatico a quattro zone. Non mancano gli attacchi Isofix per i seggiolini e nel caso non vi serva il quinto posto diventa un comodissimo bracciolo. Due parole sul motore di questa A6 berlina. È un 3000 TDI diesel omologato Euro 6 per la precisione Euro 6B, abbinato al cambio automatico a sette rapporti S-Tronic a doppia frizione e alla trazione integrale 4. La caratteristica di questo 3000 è che è in configurazione 218 CV, il che vi permette di non pagare il molto discusso Superbollo. Per scoprire il prezzo di questa Audi A6 berlina 3000 TDI disponibile in pronta consegna alla Lorenzi Auto Hub, cliccate sul link qui sotto in descrizione. Dalla Lorenzi Hub è tutto, alla prossima auto!